Un appello fondamentale per tutti i cittadini, e nello specifico nella città di Canosa, sono aumentate in modo esponenziale presso le forze di polizia le segnalazioni di persone che, spacciandosi per dipendenti dell'ASL, cercano di introdursi all'interno delle abitazioni di ignari cittadini per compiere poi dei furti. L'appello delle forze dell'ordine, dunque, mira proprio a far sì che vi sia il massimo della consapevolezza da parte dei cittadini. Non bisogna sostanzialmente aprire a nessuno, anche a chi dice di dover effettuare dei test o tamponi, tranne se non sono accompagnate da persone fidate o più che altro in divisa. A Canosa, in particolare, le segnalazioni si sono moltiplicate nelle ultime ore, ed il commissariato di pubblica sicurezza è già al lavoro per cercare di individuare coloro i quali si spacciano per dipendenti ASL. Ai tempi del coronavirus, purtroppo, può accadere anche questo.